Altezza! Ehi principe! Posso? Le mani a poco! Ehi madonna! Che scherzate qua? Dimmi! Tra amici! Sicuramente! C'è la confidenza no? Che scherzi! Ma a te piacciono le donne con i seni appesi? Le donne con i seni appesi? Madonna santa! Ma che stai scherzando? Questi seni appesi! Madonna! Assolutamente no! Senti! E le donne con la cellulite? La cellulite? Mamma mia! Che sono questi argomenti che mangio a mangiare? Madonna santa! Con la cellulite! Questa cellulite appesa qua! Sì! E le donne pettegole? No! Quelle proprio le odio! La categoria che odio di più! Cioè le pettegole proprio alla larga! Lo immaginavo! Lo immaginavo! Senti! E perché continui ad andare a letto con mia moglie?